Siamo contenti di vestire la Cappa Marathon intitolata Gran Premio Città di Bardonecchia con il brand Cappa per il dodicesimo anno consecutivo. Così Paolo Fulgenzi, Sports Sponsorship Event Manager di BasicNet, ha la conferenza stampa di presentazione dell'annuale competizione ciclistica organizzata dalla Tour in Marathon. Al suo fianco Luigi Chiavrera, presidente di Tour in Marathon, e Roberto Borgis, sindaco di Bardonecchia. Quest'anno per la prima volta ogni partecipante riceverà nel pacco gara un KY Classic personalizzato con il logo della competizione, continua Fulgenzi. La Cappa Marathon 2014 prenderà il via domenica 13 luglio da Bardonecchia con tre percorsi. Grand Jaffro 35 km dedicati ai più esperti, Grand François di 15 km e Petit François di 5 km. Per l'occasione lo staff e gli organizzatori indosseranno Felpa K e Polo Robi di K dedicate all'evento.